il preta portè autunno inverno 91 92 questa settimana dolce e gabbana esplosiva prorompente sfila una donna fiera della propria evidente bellezza e felice di poterla esibire apparentemente svampita curvilinea come una vera pin up è una donna che si sente pantera in qualsiasi occasione e che vive a proprio agio in ogni situazione e travestimento and the valley and everything yeah and now i am king and my queen will come at dawn she'll be waiting in Kingston town non solo moda ogni domenica ore 23 su canale 5 per la replica sabato ore 10 45 non solo moda ogni domenica ore 10 45